Apriamo la pagina dedicata al pallacanestro in serie A2 in gara 4 dei quarti di finale playoff. La Lux Chieti perde in casa, state vedendo le immagini contro Scafati, 57 a 76 e viene eliminato. Al palatricale i ragazzi di coach Maffezoli non ripetono dunque l'ottima prova di due giorni fa quando sono riusciti a battere la super corazzata Campana. Finisce come detto 57 a 76 con Scafati che dimostra di essere una squadra di assoluto livello seria candidata al salto in serie A1.